Sono qua perché voglio fare una recensione in live Quindi adesso aspetto un attimo, mi sistemo Facciamo una recensione, no spoiler Poi facciamo una recensione spoiler Perché questo film necessita per forza di una parte spoiler Per poter spiegare un po' di cose E poi dopo facciamo un po' di chiacchiere insieme E vi faccio vedere anche dei film che mi sono arrivati Da Midnight E due acquisti Due acquisti stranamente Intanto saluto Thomas Che si sta preparando un bel gin tonic E inizio a parlarvi Grande Danny Iron Fist Allora facciamo un'introduzione e vi parlo un po' del film In basso perché se no mi vanno insieme le idee Perché voi non la sentite tanto la musica Ma io ce l'ho sparata nelle orecchie Allora intanto mi scuso per le decorazioni natalizie che ci sono attaccate la porta Allora E' uscito direttamente su Prime Antebellum Un film che doveva uscire al cinema Horror Di Gerald Bush e Christopher Renz Che sono due registi giovani Al loro primo film Mi raccomando ricordatevelo Primo film E il manifesto chiaramente cita Get Out e As Ma non tanto perché Jordan Peele c'entri qualcosa Quindi mi raccomando perché sento tanto su internet dire Prodotto da Jordan Peele Non è prodotto da Jordan Peele Antebellum è prodotto dai produttori che hanno prodotto Get Out e Noi e As Quindi non è prodotto da Jordan Peele Quindi diciamo non attribuiamo Onori o colpe a Jordan Peele eventualmente se il film vi è piaciuto o meno Stiamo parlando di un film horror Che già dal trailer straniva Perché ci sono delle scene In costume E delle scene No Cioè ambientate nella nostra epoca Allora ci troviamo Il film inizia con un piano sequenza Intanto è molto strano che il film sia stato praticamente Messo direttamente su Prime Senza noleggio Cioè per un film comunque Non è un film prodotto da Prime Un film insomma È un vero film che doveva andare al cinema E invece che metterlo a noleggio Come è successo per tanti Film che sono Purtroppo non sono andati in sala Qui non c'è stato nessun noleggio Chi era utente Prime Ha potuto vederlo gratuitamente Grande Macerso Grazie di aver comprato la t-shirt The Congiuriano Is Not My Friend E il cappellino E grazie anche a Sara Thomas Per aver comprato le felpe Che vi stanno benissimo Siete bellissimi E molto sexy E scusate questa parentesi Quindi il film arriva Stranamente direttamente su Prime E l'ho trovata una cosa molto pregevole Insomma chi ha già Prime Non ha pagato niente Per vedere quest'anteprima Il film inizia con un lungo Abbastanza lungo Piano sequenza In questo campo di cotone In questa fattoria Dove si coltiva il cotone Ci sono dei soldati Degli stati confederati Che praticamente Tengono in schiavitù Queste persone di colore Che raccolgono il cotone Nei campi C'era una scena molto drammatica Nell'inizio Viene uccisa brutalmente Una donna di colore E insomma capiamo Di essere dentro A questo evento storico Insomma Che non esiste più Per fortuna Ma poi dopo Ci sono tutta una serie di questioni Che questo film Tira fuori Allora innanzitutto Per me non sarà semplice Non spoilerare Quindi vi dico In generale Cosa penso del film Senza spoilerare E poi entriamo Direttamente nella parte spoiler Perché è impossibile Non spoilerare Per poter spiegare Alcune Di quelle che sono Le cose importanti Di valore Di questo film Che poi tra l'altro Vedo che Non è stato capito molto Allora Innanzitutto È un film Che stranamente Segue Sembra quasi Seguire un genere Nato con Get Out E con noi Con Us Che è un genere Che si occupa Insomma Un horror Che si occupa Fortemente Di problemi sociali Voi direte Sì si occupa Di razzismo In favore Dei neri Eccetera eccetera Ma non è così Non è così scontata E banale La cosa In realtà Secondo me È un film Veramente Ben fatto Girato molto bene Con una fotografia Strepitosa Proprio da Da goduria Vera e propria I due registi Per essere così Insomma Le prime armi Hanno già una grande maestria Insomma Il film è girato bene Ha una sceneggiatura Estremamente originale Ma quante bellum Ante bellum Esatto Io penso che sia Un ottimo film Un bel film Chiaramente Quando ho finito Di vederlo Ero molto entusiasta Adesso sono meno entusiasta Ma comunque Sempre molto convinto Che sia Un ottimo film Uno dei migliori film horror Purtroppo Non è che avesse Molti competitor Quest'anno Però uno dei migliori film horror Originali che sono usciti Cioè Novità Inediti Secondo me Ha diversi twist Molto imprevedibile Ci sono tante cose Che Che sono Molto difficili da capire All'inizio Non dico che Nessuno Li abbia capiti Perché Ci sono tante persone Che sono anche Molto più attenti ai dettagli E potrebbero aver capito Parti della trama Inizialmente Questo potrebbe Sicuramente Aver tolto Quell'effetto Sorpresa Che c'è E che è molto bello Non vi posso dire niente Di quelli che sono i punti In cui ci sono questi effetti Sorpresa Però vi posso dire Che l'inizio In cui siamo In questa situazione Diciamo Nel passato C'è veramente Un clima E un'atmosfera Creata veramente Di forte tensione Quindi vuol dire che Scusate Tolgo le notifiche qua Perché se no Vuol dire che Che i due registi Comunque sono in grado Di creare Veramente un film Che ti tiene lì Incollato Poi c'è tutta Una parte centrale Che non vi dico Dove è ambientata Molto più Diciamo Soft E poi il finale Di nuovo Super mega Twist Così Insomma Sorpresone E' veramente un film Che sorprende Per me E' veramente Un grande film Però Per potervi spiegare Perché è un grande film Devo entrare nella parte Assolutamente spoiler Quindi da qua in poi Se non avete visto Antebello Mi dispiace per voi Andate via Quei pochi che siete Insomma Andate via Andatevene Vada retro Perché qua Si spoilerà pesante Ok? Avvertiti? Avvertiti Allora In soldoni Chi è qua Lo sa Antebellum Racconta la storia Di questa donna Che E' un'attivista Politica Ha scritto anche Un libro Su un tema Molto importante E Viene rapita E portata dentro Questa riproduzione Storica E tenuta Prigioniera Attenzione spoiler Esatto Tenuta prigioniera Dove In questa Riproduzione In cui Questi aguzzini Giocano a fare Appunto I soldati Degli stati confederati Quindi razzisti A favore della schiavitù Dei grandissimi Pezzi di merda E Veramente Ci sarà da odiarli Tanto E lei Insomma Da attivista Dei diritti Dei neri Nell'attuale Situazione In cui ci troviamo Si ritrova invece Proiettata In una Riproduzione In cui Proprio Cioè Spaventosa Ci ha ricordato Veramente In un modo Molto brutale Molto È un film Veramente che ha Un coraggio Di sbatterti Proprio questa Violenza Questa brutalità In un modo Pazzesco Secondo me E quindi Poi dopo Vabbè Come Se siete qua E l'avete visto Sapete che A un certo punto Lei riuscirà a liberarsi E si scoprirà Il finale Che Insomma Queste persone Sono Sono molto Hanno creato Questo campo Diciamo Di prigionia Molto vicino A un luogo Molto noto Dove vengono fatte Le riproduzioni storiche Della guerra Di secessione Che sapete Sono fissatissimi In America Su questa cosa Anche perché Gli americani Non hanno Una grande storia Anzi Non hanno Proprio storia Cioè Paragonati Agli italiani Greci Ai francesi Proprio Sono senza Storia E quindi Chiaramente Quel poco Di storie Che hanno Lo devono pompare Come dei dannati Ed è interessante Perché Proprio perché Non hanno storia C'è un altro Elemento Importante Che riguarda La fine Proprio La scena finale In cui la donna È a cavallo E ve ne parlo dopo Vi ho già detto Vabbè Insomma Che da un punto di vista Tecnico È indiscutibile Questo film È indiscutibile Cioè Regia Fotografia Sono ottimi Che poi Uno mi dica Non sono dei capolavori O quello che volete Non stiamo Qua A guardare Il pelo Nell'uovo Sono Cioè Se tutti i film Fossero girati così Ci sarebbe veramente Da leccarsi i baffi Quello Su cui Allora C'è un aspetto Questo film È veramente Un film Che tira fuori Ottomila cose Da dire La prima Più superficiale E comunque Molto interessante È che Viene presentato Come un film Quasi Dedicato al paranormale Il trailer Fa sembrare Che ci sia Qualcosa Di soprannaturale Di Che ha a che fare Con la storia E anche all'interno Del film Certi Certi tipi Di Inquadrature E fotografia Sono proprio Stilisticamente Fatti Per farti Credere Che ci siano Delle cose Delle Diciamo Delle potenze Dei poteri Superiori Come se fossimo In un Solito The Conjuring O cose del genere Invece Non è affatto così E questo è un aspetto Che ho trovato Fantastico Cioè Un film Che fondamentalmente Non ha Un cazzo Di soprannaturale È un thriller È un thriller Che poi È stato Paragonato Ad altri film Che io Adesso Ho letto Un po' di commenti In giro Qualcuno dice È un plagio Di The Village No Ti sbagli Ricorda Ci sono Delle atmosfere Da The Village Come ci sono Anche delle atmosfere Da The Purge Come ci sono Anche tantissime Cose Legate a Get Out Diciamo Che è un film Che prende Un po' di temi Un po' di stilemi E li porta Dentro Alla sua storia Ma racconta Qualcosa di Completamente Diverso Da The Village Proprio Non c'entra Un cazzo È molto Semplicistico Dire È un plagio Di The Village Ma poi Non usiamo parole A sproposito Veramente C'è sto cavolo Di Quindi A me è piaciuto Intanto Questo aspetto qua Del film Ciao Nicolas Ciao Nicolas Tra l'altro Mi sembra Ti sei iscritto Da poco Se volete Abbonatevi Con Prime Al canale Se no Fate un po' Il cazzo Che vi pare Un altro Aspetto importante Di questo film È che Sembra Un film Che Vuole Sembra Ed è Alla fine Effettivamente Un film Che vuole Mettere l'accento Su dei problemi Molto grossi E gravi Che sono Quelli Del Del Razzismo Ma E lo fa Veramente Con una Forza E una Brutalità Che io Veramente Pochi film Ho visto Essere così Schietti E Soprattutto Andare a cercare Non so come Dire La La rissa Quasi Il flame Perché Perché Vi dico Questo Perché La parte In cui Questa donna Non è Prigioniera Quindi Antecedente Noi troviamo Una donna di colore Sì Un attivista È tutto quello Che volete Ma è anche Una donna di successo È bella È intelligente È istruita Ha una bella famiglia Ed è La leader Della famiglia Quindi C'è anche Un tema Di Diciamo Distruzione Del patriarcato Cioè Di Disgregazione Del concetto Di In casa Comanda L'uomo No In questa casa Comanda Non dico Che comanda La donna Ma la donna Ha la leadership Quindi C'è Ci sono Tutta una serie Di elementi Che qualcuno Potrebbe dire Stereotipati Invece Non sono Stereotipati Sono Elementi Messi Apposta Lì Per Provocare Un'emozione E sapete Qual è Questa emozione? L'emozione Che provoca E la rabbia Nei confronti Del razzista Che guarda Il film Perché Il razzista Non sopporta L'idea Del Che una donna Di colore Abbia successo Non gli piace Come si comporta Non gli piace Il suo stile Non gli piace Scusate Adesso sicuramente Mi confonderò Impostazioni Notifiche Ok Togli notifiche Perché mi sono rotto Il razzista Non sopporta L'idea di vedere Una donna di colore Avere successo Vendere Poter parlare Avere un ruolo Essere pure La capa All'interno C'è la capa La leader All'interno Del nucleo familiare Ok Quindi Tutta questa Costruzione Del personaggio È fatta Apposta Per provocare Ma non per provocare Nel senso Che è fatta apposta Per scatenare Quella rabbia Che il razzista Prova Quindi attenzione Se avete provato Quella rabbia Perché siete messi male Quindi La costruzione Di questi personaggi È forzata Ok Perché il regista Lo sceneggiatore Potevano Tranquillamente Creare un personaggio Un po' meno Figo Ok Invece lei È proprio È figa Cioè È proprio È bella È intelligente La figlia È intelligente Il marito È intelligente Il marito Non gliene frega Niente Di imporre La sua Il suo Diciamo Potere All'interno La famiglia Sono Diciamo Il prototipo Di famiglia Perfetta E lo sono Essendo neri Quindi c'è Proprio da Da farsene Girare di brutto Se sei minimamente Razzista Ed è Ed è fatto Apposta E lo spettatore Razzista È Viene rappresentato Dagli aguzzini Che la rapiscono Perché non sopportano Questa donna Non la sopportano Una donna di successo In tutti i campi In tutti i campi Ma Tra l'altro Io volevo Aggiungere Che non è solo Appunto La cosa interessante Di questo film È che non parla Solo di razzismo Parla anche Di patriarcato Di Diciamo Come Discriminazione Di genere Parla di Discriminazione Di genere Perché C'è anche Il tema Della donna Che viene Praticamente Sottomessa Non decide Soggiogata Anche Anche La figlia Del capo Degli aguzzini È soggiogata Perché decide Il padre Cosa bisogna fare Quindi C'è questo tema E infine C'è un altro tema Ancora Più figo E Messo lì Veramente In un modo Forzato Anche Sicuramente Forzato Che è quello Della Discriminazione Fisica Perché c'è L'amica Di lei Che è Molto Molto Grassa Possiamo Tranquillamente Dire che è obesa Secondo i canoni Medici Ma È felice E non gli Devi Non gli devi Rompercazzo Non gliene frega niente Di quello che pensi Di lei E lei È felice E questo dà Un grande fastidio Alle persone Che sono infelici E magari sono pure magre Quindi c'è C'è Tutto nel pacchetto E lo trovo Veramente molto Molto Un film Veramente molto Importante Con un messaggio Con dei messaggi Importantissimi Adesso arriviamo Ai messaggi Perché i messaggi Ci sono E trovo Assurdo Che ci si fermi A guardare Delle cose Che non sono Assoluti Cioè dei difetti Che non sono Tanto esistenti Ma non sono Neanche difetti Perché ovviamente Io non avrei voluto Rispondere a quello Che ho letto online Però poi lo sento E mi viene da rispondere Ma non perché Ce l'ho con qualcuno Semplicemente Voglio che passino Delle idee Che io ho Poi se Non siete d'accordo Possiamo sempre Discuterne Uno è che Dire che Un film Ha dei personaggi Stereotipati Non è Non rappresenta Un difetto Quindi un film Che ha personaggi Stereotipati Non è assolutamente Un difetto Vi faccio un esempio Il dottore Di Rianimator È un personaggio Stereotipato È un personaggio Creato Da uno stereotipo Che è lo stereotipo Del Mad Doctor Che esiste Nella Diciamo Cinematografia Horror Da decenni Frankenstein Il dottore Dell'uomo invisibile È un chimico Insomma È pieno zeppo Di scienziati pazzi E dottori pazzi Che il Mad Doctor Esiste già Eppure Nonostante ciò È stato creato Un film ottimo Con una sua personalità Quindi lo stereotipo È stato preso E neanche troppo Diciamo Stravolto Perché non è che Stiamo parlando Di qualcosa Di molto diverso Da Dottor Frankenstein O altri Quindi si tratta Di sfumature Quindi dire Che un film Ha dei personaggi Stereotipati Non è una critica È semplicemente Non sapere Che questo Non è un difetto Non è un difetto Anche perché Le storie Sono piene zeppe Di personaggi Stereotipati E questo ci porta Al punto che Ciò che conta Ed è per questo Che io ritengo Che Antebell Non sia Un ottimo film Ciò che conta Nelle storie È il messaggio Non è il contorno E per questa ragione Anche voi Doveste trovare Di piccoli difetti Questo non Intaccherebbe Il risultato finale Che è un risultato Eccezionale Secondo me In questo film È veramente Un risultato eccezionale Infatti È un film Che non viene capito Come succede Spesso Per i film Come Come ereditary Che ci vogliono Due o tre anni Prima che la gente Inizi a capire Qual è il vero valore Di queste opere Non so se Mi state seguendo Il messaggio Del film Vediamo Se riesco Ad andare dritto Per la mia strada Il messaggio Del film Di Antebellum È fenomenale Ed è scritto E viene ripetuto Nel film Il messaggio È È lo stesso Del titolo Del libro Che lei ha scritto La protagonista E il titolo Del libro Che lei ha scritto È La caduta Dell'indole mite Che tradotto In parole povere A dire Il razzismo Non è Non è Una cosa bella Siete dei cattivoni E mantenere Diciamo Questa Indole mite E a Insomma A porgere L'altra guancia Per beccarsi In un'altra frustata Non ci si ricava Nulla E infatti La caduta Dell'indole mite Significa Ora non ve ne facciamo Passare più Neanche una Ok Nessuna allusione Nessun sorrisetto Niente vi facciamo passare La caduta Dell'indole mite E vale Per i neri Per i grassi Per le donne Significa Basta Dire Ma sì Era una battuta Ma sì Stava scherzando Ma sì In fondo È una brava persona Significa Ora basta La caduta Dell'indole mite Ora sono cazzi vostri Non ve ne facciamo Passare più Neanche una E questo è il significato Del film E infatti Viene applicato All'interno Della storia Nella storia Nella storia Poi mi incazzo Nella storia Lei Insomma Proclama La caduta Dell'indole mite Col suo libro Dice Non bisogna far così Bisogna far cosà Bisogna Ci sono Bisogna rompere Certe cose Il razzismo Sia quello Etnico Che quello Fisico Che quello Anche di genere Nasce dalla paura E lei lo dice Chiaramente Quindi ci sono I messaggi Ragazzi Ma voi Ragazzi Voi non vi dovete Permettere Di dire Che questo film È brutto Via deluso Perché state State facendo Un atto politico Contro Cioè Vi schierate Dalla parte sbagliata Perché veramente Fate un danno Questo è un film Meraviglioso Da un punto di vista Politico Ma politico Non è inteso Destra-sinistra Politico è inteso Non dovete rompere I coglioni agli altri Quelli che sono diversi Ok Non gli dovete rompere I coglioni Avete rotto il cazzo Quindi occhio A dire È un film di merda Perché non capi Non avete capito Il messaggio Che è chiarissimo Lei lo dice Lei lo dice Fanno così Perché hanno paura Perché tutto Quello che accade In questo mondo Di male È perché le persone Hanno paura Non vogliono cambiamenti Perché hanno paura Quindi non vogliono Che le donne lavorino Non vogliono Che le donne guadagnino Più degli uomini Non vogliono Che le grassi Siano felici Non vogliono Che i neri Siano felici E che abbiano successo E che possano Decidere E che possano Anche essere di più Perché hanno paura Ok Quindi il messaggio c'è La caduta Dell'indole mite È raccontata nel film Perché lei Finisce dentro La prigionia Ed è mite E l'amica Gli dice Tu sei quella Che proclamava Questo concetto Di non farne Passare più una Tu sei Eri lì A proclamare Questo Adesso che ci hanno Cattolato Siamo qua Tu mi Ti comporti così Al che L'amica si suicida Perché ha perso il bambino Dopo l'ennesima violenza E lì Viene fuori Una bestia Viene fuori Viene fuori una bestia Viene fuori una bestia Da quella donna Stupendo Emozioni incredibili C'è Un film Bam Che dire Cioè Adesso Arrivo Arrivo Chiudo Con un finale Poi dopo Magari Ne parliamo Però Chiudo con un finale Per questa mia recensione Che Diciamo Veramente va Oltre Perché questo è un film Che va oltre Cazzo Straborda Di 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 Ideali Straborda Di ideali Io farei un monumento A questi due ragazzi Che hanno fatto sto film L'esagerazione Stroppia Non sono assolutamente D'accordo Cioè L'esagerazione Chi la stabilisce Non ho capito L'esagerazione Chi stabilisce Che cos'è esagerato Cioè Secondo me Sono Questi Sono tutte Non so come dire Piccole barriere Che noi mettiamo Come per dire No aspetta Però è troppo Per me No eh Ma lasciate Cioè Ma lasciate Che uno faccia Il cazzo Che vuole I film Sono delle Sono delle fiabe Ragazzi miei Non sono Non stiamo parlando Di Scienza Stiamo parlando Di fiabe Stiamo parlando Di narrazione Stiamo parlando Di racconti Intorno al fuoco Sono L'evoluzione Del racconto Intorno al fuoco Sono l'evoluzione Del cantastorie Sono l'evoluzione Del racconto Della fiaba Tuo figlio Sono l'evoluzione Dei romanzi E voi mi venite A dire Il troppo Stroppia Il troppo E l'esagerazione Stroppia Ma stiamo scherzando Sono Cioè Sono storie Non conta Come vengono fatte Conta il messaggio Che viene mandato Raga Statemi dietro Perché io galoppo A una velocità Che So se mi sono spiegato Finale Il film Spiega bene Appunto Se sono fiabe Devono non esagerare Ma Scusami Dire cosa non deve fare Uno a un altro Ha sbagliato canale Cioè È arte Uno può fare Il cazzo che vuole Ciao Ciao Nicolas Finisco Finisco Poi dopo Rispondo Allora Il finale Per chiudere Il film Manda un messaggio Abbastanza chiaro Una soluzione Abbastanza chiara Rappresentata Chiaramente Da una ribellione Vi ricordo Che stanno succedendo Le cose Sempre peggiori In America In questa Diciamo Continua Finzione Che il razzismo Non esiste E poi c'è un finale Fantastico Perché lei Si libera E va a cavallo Riesce a uscire E cavalca In mezzo Alla riproduzione Storica Che sta avvenendo In quel momento Con i turisti E tutto E ha una giubba Aperta Ha questi capelli Dread Che ricordano Un po' I capelli degli indiani Lascia da indiana E lei Lì Rappresenta I nativi americani Cioè Alla fine In questo film Sono riusciti pure A dire Cioè A dire Che avete rotto il cazzo Pure ai nativi americani Con la vostra violenza Con la vostra prevaricazione E lei lì rappresenta Che ne so Toro seduto Rappresenta Uno di quei grandi guerrieri Indiani Guardate la scena Sembra veramente Una nativa americana In guerra Che Con quest'ascia Proprio C'ha una Un'ascia Che somiglia molto A un'ascia Di quelle degli indiani E corre verso la libertà In questo finale Strepitoso Cioè Per me Con tutti i difetti Che possono esserci Nei film È un grandissimo film È un grandissimo film E qua Chiudo Questa Questa recensione Posso aggiungere Che ci sono Delle piccole cose Che non mi sono Che non mi sono chiare Neanche a me Per esempio C'è una scena Dove c'è la bambina In costume Che viene vista Nel Nei corridoi Dell'hotel Ma Sinceramente Che quello sia Un errore O che quello sia Qualcosa Che io non ho capito Sinceramente Mi frega poco Mi frega Il risultato Il risultato È che Messaggio potente Messaggio arrivato E infatti O lo capisci O non lo capisci Questo film Cioè Non puoi avere Una via di mezzo E in più Tecnicamente È fatto pure bene Tecnicamente È fatto pure bene E c'è C'è pure gente Che ha da ridire Poi vedono Il tale Vabbè Passiamo Passiamo ad altri Va bene Qua finisce la recensione Che caricherò Anche su youtube Quindi se volete Commentare Poi il video Su youtube Siete liberi Di farlo E basta Adesso Mi bevo un po' d'acqua E parliamo Di quello che volete Anche i dettagli Scene Eccetera Però ragazzi Io vi invito A entrare Nell'ottica Che il mondo Del Cioè Che voi Molti Spettatori Del cinema Hanno una visione Del cinema Quasi Da Da ragioniere Cioè No il cinema È come l'ho deciso io Il cinema È come Sono abituato io No il cinema Non è così Non è così Se voi Se voi Aveste visto Tantissimi tipi di film Che esistevano Ancora prima Della nostra nascita Sapreste Che non è assolutamente Vero Anzi Piuttosto L'omologazione Del cinema È la morte Del cinema Quindi Evitiamo di cercare Di dire No il film Deve essere fatto così No deve avere La sceneggiatura così No deve avere Ma oh Ma quando mai E poi ecco Bravo bravo Davide tira fuori Sempre delle cose Intriganti Adesso poi andrò Anche a leggere La tua recensione Seguitelo Sulla sua pagina Instagram Watch Film Che si impegna Molto molto bravo È cresciuto tantissimo Ma le fiabe Sono esagerate Cioè nelle fiabe Trovi ogni genere Di cosa Nei modi più disparati Beh ma anche i film La bambina Non è un errore È il pericolo Che anche le nuove generazioni Possono accompagnarsi In quel tipo di minacce Discriminante Sì no Non intendo Che sia un errore Intendevo Infatti tu hai detto Una cosa intelligente È sicuramente un simbolismo Ma dicevo Non ho capito In termini di logica Perché poi il film In realtà Ha tutta una logica Che funziona Cioè non ci sono Cose che non tornano Però appunto Come mai Lei fosse vestita così Fuori dal contesto Anche se una spiegazione La si può dare Tranquillamente Io ho tolto Le notifiche Vabbè Scusate Mi arrivano Allora Per rispondere a Thomas Thomas ha detto una cosa E voglio che sia Un esercizio di stile Di stile Proprio come Quando si guardano i film Ha detto una cosa Ma ci sta È una critica Però È una critica Che poi Vi autolede Mi fa Mi ha detto Ah ma quando lei Scappa Col cavallo La figlia Del capo La rincorre Ed è già vestita E questo Uno dice Eh ma questo È poco credibile Questo è poco credibile Perché Perché Con questa modalità Tu cerchi l'errore Ma se tu Entri nella modalità Di cercare La spiegazione È facilissimo Lei probabilmente Non era andata a dormire Visto che c'erano Anche i due soldati Svegli E ubriachi Forse Si è addormentata Vestita Forse Ha iniziato a vestirsi Quando Ha sentito dei rumori Però diciamo La cosa più semplice Ciao Dante La cosa più semplice È Forse Era Sveglia Quindi Andare a cercare L'errore Quando non c'è Nel senso che Ci sono dei film Che sono Che hanno degli errori No Adesso non vorrei sbagliare Ma per esempio In The Nun 2 In The Nun 2 Manco è uscito In The Nun C'è un errore Secondo me Non ne sono sicuro Al 100% Però lo avevo detto In una recensione Quindi mi sembra Che sia vero Avrei dovuto rivedere Il film Per essere sicuro Al 100% Ma ragazzi Ma voi Mi volete male Che devo rivedere il film No dai Allora I due hanno una cazzo di chiave La suora e l'altro Hanno una chiave E si separano Durante il film Il problema È che nel film La chiave Inizialmente C'è la lei E quando si separano Senza più rincontrarsi Dopo c'è la lui Ecco C'è questo errore Questo è un errore Che Non puoi dire E gliela lanciata Che cazzo ne so Cioè Devi andare proprio A rampicarti sugli specchi Ma Se uno mi dice Eh ma quella era già vestita Potrebbe tranquillamente Essere già stata sveglia Quindi Non Non cerchiamo L'errore Dove non Non c'è Alla fine Perché poi È un atteggiamento Distruttivo Nei confronti del film Che non serve Perché in realtà È facilissimo Spiegare una cosa del genere E E Questo accade spesso Nei film E comunque Non dico che questo film Non abbia errori Io non ne ho individuati Però Anche se ci fosse Qualche difetto Qualche incertezza Qualche dimenticanza Ci sono un sacco di Bloopers Si chiamano così No Gli errori nei film Anche in capolavori Anche in capolavori Ci sono I microfoni Che entrano dentro Cose che prima Erano appoggiate a destra Poi a sinistra Cioè Pezzi che mancano Succede anche ai capolavori Per cui Non Proprio per questa ragione Mi soffermo Sul Sul tema Del Conta Il risultato La sostanza Cioè Se il film Ha una ciccia Non Se Quello ha fatto così E quello ha fatto così Poi io purtroppo Ho sentito anche persone Che hanno detto Che la recitazione Qua e là Del doppiaggio Ma ragazzi Ma se guardate i film doppiati Cioè Sono cazzi vostri Non è che Adesso io vi faccio Una Una metafora No Se io compro L'Xbox E il corriere DHL Per esempio Adesso non vorrei essere Denunciato Per Quelle là No Non DHL Facciamo un corriere Che mi invento io Che è SKI Ne so Prende l'Xbox La fa cadere La rompe Me la porta L'Xbox è rotta Io non è che poi Vado a fare la recensione Su Microsoft E dico Microsoft è una società Di merda Perché l'Xbox Che mi ha dato È rotta Ok Quindi il film Se viene doppiato male Da una società italiana Che lo distribuisce Non potete prendervela Con il film Cioè Sapete quanta atmosfera Quanto patos Quanto si cancella Con il doppiaggio Cioè Ve lo immaginate Cioè Quanto Cambia La percezione Di un film Io l'ho visto in lingua originale Eh Raga Cioè È un'altra cosa Cazzo Senti i respiri Senti le robe Lì Nel doppiaggio I respiri sono finti Quando Quando loro lottano I respiri sono veri Cioè Sono in presa diretta L'affanno Non è vero Capite Poi certo Alcune cose Vengono fatte Rifatte Rimesse a posto Aggiunte Un po' più di respiro Un po' meno di respiro Intanto però C'è una base Che è una base Di cinema In presa diretta Molto più Più figa Eh E poi Vedo le recensioni La gente che dice Il doppiaggio fa schifo Ma che cazzo Non guardarlo doppiato Se lo guardi doppiato Devi essere consapevole Che stai vedendo Una versione Monca Del film Monca Mi dispiace Lo so che siete pigri Lo so che anche tanti Che seguono L'Apitex Blog Guardano I miei amici Seguono E tutto Guardano i film Indoppiati Perché sono stanchi Non c'ha voglia Di leggere Eccetera Però Però dovete essere consapevoli Di quello che fate Cioè Che Vi fate un danno Alla visione Comunque Non guardo sempre Tutti i film In lingua originale Però quando penso Che ne possa valere la pena E in questo caso Ho avuto Ho snasato Ho detto Questo me lo guardo In lingua originale Ne è valsa la pena Poi soprattutto Quelli dove ci sono Le lingue straniere Per esempio Cos'è che ho visto? Ah The Vigil Che è un film Che comunque Non è Riuscitissimo Ecco Diciamo Non è un film Che Che lascia il segno E anzi Poteva lasciare Di più Però è un film Che vi assicuro Che se lo guardate In lingua originale È molto più bello È molto più Non so come dire Gli errori Che ci sono Rimangono Certe Cose Abbastanza Cringe Diciamo Che generano Un po' Di imbarazzo Però Tutto il recitato Intorno Con loro Che parlano In ebraico Scusatevi Ma fa La sua Porca figura Crea un'atmosfera Crea un clima Notevole Quindi Cioè Ragazzi Di che stiamo a parlare Comunque adesso Leggo un po' Di commenti Così mi incazzo E metto anche la musica E via 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 Come un dispositivo collegato Che è che mi sta ciucciando La rete Perché si è spento Allora Perdonatemi E se mi infervero Però non dovete Mettere limiti All'arte Dire no Deve essere così Deve essere Ma Ragazzi Ma mi rendete conto Quanto suona Quanto suona Rigida la cosa Mi spiace che Che Nicolas Lo volevo conoscere Che Si è appena iscritto Comunque dai Iscrivetemi A bomba Che voglio leggere Seagons Non era riferito Direttamente A quello che hai detto Che immaginavo Comunque Non è che Me la prendo In generale Tutti se la sono presi Con quella scena Allora cosa fai Togli quella scena E diventa un capolavoro Non ho capito Infatti Cioè Tagliamo quella scena E il film diventa un capolavoro Al netto Di quelli Che possono essere Errori O cose Non capite Il film però C'ha un bel messaggio È potente Ora io Voglio vedere Quanti esempi Di film Che hanno Un messaggio Del genere Così forte Sbattuto in faccia In questa maniera E Voglio vedere La gente Che me li spiega Sti film Che hanno Cioè The Conjuring Venitemi a dire The Conjuring Di che cosa parla Cioè Qual è il messaggio Che manda Che se cade Vi cade il sale Lo dovete tirar Tre volte dietro La schiena Questo è il messaggio Cioè Non toglie Che antebello Che ha in testa De nanna Ma che ha in testa Tantissimi altri film Tra l'altro Ragazzi Poi io vedo La gente Che dice Ah che bello Il talento Del calabrone Cosa Cioè Va bene Raga Cioè Difendiamo Il cinema italiano Però Però Cioè Questo è un filmone Rispetto al talento Del calabrone Però siccome Bisogna far così Cos'ha Gne 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 Chi lo critica Dicendo che è illogico Non ha capito Una cippa Poi se non l'hanno capito Neanche dopo Sto spiegone Che gli ho fatto Cioè Raga Cioè Poi se Se lo riguardo Adesso me lo metto sotto Guarda Lo volevo fare Già prima Me lo rimetto sotto Perché voglio andare avanti Nei pezzi E vedere delle robe Che volevo dire A parte che Ci sono delle scene Bellissime Cioè Di una violenza Molto forti Tipo quando Uccide i tizi Mi alzo il volume Questa è la scena finale La vorrei far vedere Se potessi Raga Guarda Se potessi Che bella Lei con gli occhi Pieni di 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 lacrime La bocca aperta Per respirare Che corre Sul cavallo Con l'ascia in mano Come se fosse Un 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 soldato indiano Dai Prima che mi bloccano tutto Tolgo la Tolgo l'audio Eh no Dai ragazzi Ma di che cazzo Stiamo parlando Prendete De Conjuring E ficcatevelo su Per il culo Porco zio Minchia Lo riguarderò De Conjuring Lo distruggo Cioè Ma si può Stare qua A usannare De Conjuring Cioè Porco giuda Questo qua Che è in testa De Conjuring Lo dico proprio Ma si Ma poi potete dirmi Tecnicamente Tecnicamente Sembra La casa Delle Barbie De Conjuring Sembra La casa Delle Barbie Sembra La casa Delle bambole Lui Sembra Big Jim E lei Sembra Barbie E non vi dico Cosa sembra La suora Quando si mette Il quadro Come una deficiente Il quadro Così E vai in giro Dai Le porte che sbattono La gente sulle sedie Che vola Un plopis E se fai un clopis Un clopis E se fai un clopis De conjuring Un clopis Un clopis E se fai un clopis Che ve Un clopis Grazie a tutti